Il tema della festa della famiglia 2024, animati da invincibile speranza, la famiglia cristiana può essere un invito alla gioia per tutti. Ecco, la prima parte animati da invincibile speranza l'abbiamo estrapolata dalla proposta pastorale del nostro arcivescovo che oggi abbiamo la fortuna di avere qui con noi e lo ringraziamo. Insieme a noi abbiamo invitato tre coppie che reagiranno un po' su questo titolo, che cosa dice alla nostra vita questo animati da invincibile speranza. Ecco, dunque passo subito la parola. Siamo Pietro e Alda, veniamo dalla provincia di Lecco, siamo famiglia da 15 anni, abbiamo tre figli e la nostra invincibile speranza si è manifestata quando è nato il nostro secondo figlio Silvano che è diversamente abile e la speranza ci ha permesso di andare avanti. Di combattere diverse battaglie e a partire anche dall'accettazione di questo compito che ci era stato affidato. Prima di capire che fosse un compito sono passati probabilmente dei mesi, abbiamo fatto diversi cambiamenti noi stessi, ci siamo accorti e dalla naturale domanda del perché a noi siamo poi passati a dire se ce l'ha dato in qualche modo ci darà anche gli strumenti per andare avanti. È proprio questo il punto, l'avere qualcuno non in alto ovunque, avere questa certezza del ce l'ha affidato ci darà anche il modo di andare avanti. Siamo Fabio e Laura, mia moglie, e veniamo dalla Brianza. Dal momento in cui io e mia moglie ci siamo incontrati abbiamo compreso da subito che il nostro desiderio era quello di formare una famiglia. Ed è così che insomma abbiamo accolto i figli che sono arrivati, ben quattro, e non perché fosse facile ma perché comunque l'amore ci ci aiutava ci aiutava a fare queste a queste queste scelte. Siamo appunto stati benedetti con l'arrivo di quattro figli però un giorno mia moglie mi disse che sentiva che potevamo dare di più e anche più io le dicevo che crescere ed amare quattro figli era già un impegno importante, un bell'impegno, più lei mi rispondeva che potevamo dare amore anche ad altri. e dopodiché una serie di coincidenze, che poi coincidenze non furono, ci siamo avvicinati all'affidamento familiare. Abbiamo intrapreso un percorso con l'associazione Amici dei Bambini e una volta che ci siamo sentiti pronti abbiamo iniziato assieme ai nostri figli questa incredibile avventura dell'affido. Ad oggi abbiamo accolto sei bambini molto piccoli, alcuni di questi sono stati adottati mentre una è tuttora è tuttora con noi. Ecco il bello dell'accoglienza affidataria è stata imparare ad amare gratuitamente. Devo dire che è una cosa che ci ha veramente sconvolto in senso buono e cambiato la vita. Nel corso del tempo abbiamo insieme alle altre famiglie costituito una vera e propria rete in cui ci confrontiamo e ci supportiamo. E siamo venuti a conoscere comunque, siamo venuti a conoscenza anche di tante altre realtà, quindi di tante persone che fanno la nostra stessa esperienza, tra cui ad esempio anche Anania che è un progetto di Caritas. Spesso insomma quando parliamo di noi, di noi come famiglia, del fatto appunto di avere accolto anno dopo anno tanti bimbi, spesso ci viene detto mamma chi ve lo fa fare? E io rispondo sempre con un sorriso perché comunque la famiglia è gioia, la famiglia è confronto, la famiglia è anche fatica, però non c'è decisamente altro luogo, altra dimensione dove vorrei trovarmi. Siamo Renata e Edoardo Faini, abitiamo ad Eupilio, un piccolo paesino della provincia di Como, siamo sposati da 50 anni. Il titolo che è stato dato a questa festa della famiglia è piuttosto intrigante, ci ha colpito molto, animati da invincibile speranza. Ci siamo soffermati sulla parola invincibile perché crediamo, per esperienza e per le tante giovani coppie che incontriamo, che questa parola sia una parola molto radicata nell'esperienza dell'amore. Perché quando si è amati e si ama sembra davvero di essere invincibili, niente può, come dire, farci fuori, mi viene da dire. Davvero abbiamo dentro di noi una forza molto, molto forte. Quando noi ci siamo sposati eravamo appunto animati da questa passione, ecco perché dicevo che questa parola ci ha un po' colpito. E questa passione che ci ha portato appunto a decidere di sposarci, di vivere insieme la vita. Poi un incidente di percorso ci ha fatto un po' anticipare questa decisione, ma in quell'occasione abbiamo trovato un sacerdote che ci ha accolto veramente con molta tenerezza, con molta attenzione, molto benevolo nei nostri confronti e ci ha mostrato davvero quanto lui credeva in noi. E quindi abbiamo un po' anticipato il nostro matrimonio, accogliendo la vita che stava nascendo, assumendoci le nostre responsabilità di sposi e di genitori. Avevo detto prima a Renata che siamo sposati da 50 anni, abbiamo appena festeggiato sei mesi fa, e 50 anni abbiamo visto tutti i colori, nel senso che abbiamo vissuto le difficoltà della malattia, io ho avuto un grosso incidente, appena dopo sposati, abbiamo avuto problemi economici, sono stato disoccupato, l'accudimento dei genitori, eccetera, eccetera, ma in tutti questi momenti, poi anche tra di noi naturalmente, incomprensioni, silenzi, disastri. Però tutte le volte abbiamo avuto la capacità, l'intuizione di tornare sempre al giorno del nostro matrimonio, al momento in cui abbiamo detto sì a questa cosa. Perché? Perché ci siamo, da quel momento abbiamo ripreso la luce, la forza, la speranza, e ci siamo ricordati che Dio ci ha fatto una promessa di essere con noi. Sì, su questo con noi ci è venuto in mente anche un film, che non è recente, però è significativo ed è anche molto bello, è Nessuno si salva da solo. Questo per dire che appunto non possiamo isolarci e vivere come due cuori e una capanna, no? Per cui la nostra esperienza, in questi 50 anni di matrimonio, si è molto nutrita nella fede attraverso un cammino in un movimento di spiritualità coniugale. Ma abbiamo trovato compagni di viaggio, amici, sacerdoti, che ci hanno sempre aiutato nei momenti bui a ritrovare quella luce iniziale. E quindi pensiamo che la gioia che una coppia, che in una famiglia si può vivere ed esperimentare, deve essere una gioia condivisa, nella coppia, nella famiglia, per poi allargarsi al mondo. E allora pensiamo che le famiglie cristiane possono testimoniare questa gioia, questo star bene insieme, sostenendoci, perché questo amore iniziale è sicuramente nutrito dalla speranza di un amore più grande, che è l'amore di Dio per ciascuno di noi e ci aiuta, come dire, a realizzare quel sogno che c'è scritto dentro di noi. Abbiamo detto invincibile perché in effetti l'esperienza è che la speranza può anche essere sconfitta e l'esperienza, tante storie di famiglia dicono che la speranza può essere sconfitta, può essere sconfitta dal raffreddarsi dell'amore tra i coniugi, può essere sconfitta dalle fatiche della vita nel far fronte alla situazione magari dei genitori anziani, dei figli difficili, dei rapporti complicati sul lavoro e quindi anche ciascuno può provare dei momenti di esasperazione in cui sembra che la vita sia una delusione e che le promesse siano inaffidabili. Ma noi facciamo festa per la famiglia, invitiamo tutte le famiglie a far festa perché vorremmo rivelare il segreto dell'invincibile speranza e il segreto dell'invincibile speranza è fatto di tre segreti. Il primo è il segreto di Dio, cioè la certezza che Dio ci accompagna, che riceviamo da Lui tutti i doni che rendono bella, ricca, ricca, importante, la vita come sono i figli, come sono i genitori, come sono gli amici, com'è la comunità cristiana. Ecco, viene da Dio, Dio è colui che ci dona tutti i beni, perciò la nostra speranza è invincibile. Il secondo segreto dell'invincibile speranza è il tener vivo il rapporto di coppia, il rapporto tra marito e moglie, cioè quell'amore che non è il sentimento dell'innamoramento giovanile che per forza di cose forse è passeggero, ma è quell'amore che dice io ho stima di te, tu hai stima di me e noi possiamo anche affrontare delle prove, perdonarci, essere pieni di entusiasmo, sognare, scrivere poesie, versare lacrime, vivere momenti di rabbia, ma io ho stima di te, tu hai stima di me. Questo è il secondo segreto dell'invincibile speranza. E il terzo segreto dell'invincibile speranza è la comunità cristiana, è il rapporto con le altre famiglie, è l'inserirsi dentro una dinamica di gruppi familiari, di persone che condividono le stesse problematiche, di situazioni che invocano un aiuto e così anche le famiglie che fanno fatica possono scoprire di essere capaci di aiutare gli altri e così anche le famiglie che fanno fatica possono scoprire quanto è necessario lasciarsi aiutare. Ecco io vorrei che fosse una festa di famiglia in cui si riscopre il fondamento dell'invincibile speranza che è l'amore di Dio, che è la stima e l'amore reciproco, che è l'appartenenza a questa comunità cristiana che ci accoglie, che ci chiede di essere a servizio, che ci impegna ad accogliere e a dare quello che possiamo. Buona festa della famiglia. Grazie a tutti.